Buonasera. No, no, io mia figlia non l'ho fatta vaccinare. Ma vede, c'è un piccolo problema spesso ricorrente, direi, mi sembra di capire. Qui si parla di dati e le persone sparano dei dati che non si sa francamente da dove vengono trovati. Il dottor Amodio dà dei dati che in realtà sono reali e viene preso in giro. Ho sentito l'Amurro dire prima che ci sono 9 miliardi di vaccinati. Interessante, non ci sono 9 miliardi di persone sul pianeta. Di dosi ho detto, mi scusi, 9 miliardi di dosi, mi perdoni. Di dosi, certo, mi scusi, non l'ho chiarito. Andiamo avanti se consente. Dopodiché ha detto che non c'è stato un morto correlato da vaccinazione. Non c'è stato un morto, va bene. Intanto scusi, sto vedendo, intanto scusi un attimo, dottore, scusi, voglio salutare anche Marco Melandri che è al centro di una grande polemica, chiariremo tutte quelle che sono state le sue parole in questa intervista, come sono state, che hanno sollevato e generato veramente una divisione fortissima sul web. Grazie Marco, tra poco siamo con lei. Bravo Marco, tra poco arrivo. Prego, dottor Fraiese. Grazie. Dicevo, i morti purtroppo ci sono stati, ci sono stati anche, tra l'altro, nella fascia dei bambini tra i 5 e gli 11 anni con la vaccinazione. Io qui ho il report che è tratto dal virus. Sono tre persone, purtroppo, sono tre bambini tra i 5 e gli 11 anni che post vaccinazione, e non vi leggo la storia clinica perché se no vi spaventate, francamente non le vale la pena. Oltre quello ho l'elenco dei rischi e dei danni che sono stati causati dalla vaccinazione che il collega dice essere così sdoganata. Allora vi ricordo che prima di averla utilizzata su larga scala, dopo due mesi di sperimentazione, il vaccino mRNA veniva usato solamente su patologie orfane prive di altri trattamenti come uso compassionevole. Non ne conosciamo niente, vi ricordo anche che Moderna, che è la casa farmaceutica over the top per questa tecnologia, ha fatto nove applicazioni precedenti su vaccini mRNA, sono tutte quante cadute nel nulla. Stranamente invece questa è passata nel momento dell'emergenza. Vi leggo brevemente che cosa è successo ai bambini tra i 5 e gli 11 anni in America. infarto miocardico acuto, anafilassi, appendicite, trombosi del seno venoso centrale, coagulazione disseminata intravascolare, trombocipitimia, polmoniti, infarti, vogliamo andare avanti? Propaganda. Venite e date i dati, non c'è nessun problema. Guarda, non serve dare dati, perché in questo momento secondo me dovresti fare un esame di coscienza, perché se noi ti facciamo vedere i risultati di un sondaggio dove ci sono solo medici, se hanno o no vaccinati i loro figli, noi siamo a 900 contro 20 che non l'hanno fatto, quindi tu sei uno dei pochi che hanno la verità e che sanno leggere i dati, perché sennò i tuoi colleghi, come me, sono tutti coglioni e tu sei il più bravo. Peraltro tu hai detto un'inesattezza ultimamente, fammi finire di parlare perché hai detto un'inesattezza mettendo in bocca ai novati, siamo colleghi, io sono un tuo collega e ti posso dare del tu, comunque ti posso dare anche del lei, quindi lei non si deve permettere di instillare il dubbio in questo momento nella popolazione, nel momento in quale Pediatri del Bambin Gesù, la Società Italiana di Pediatria, tutti i tuoi colleghi, io ho sofferto per vaccinare mio figlio e dare l'esempio agli altri e i gruppi Novax alimentati da queste informazioni che sono false, perché la genotossicità dei lipide e non dell'mRNA che non può essere genotossico è lieve ed è in due somministrazioni, sai che significa andare? Sì, sì, è lieve, qui c'è il report di Moderna, dove li hai letti i dati? Tu portali. Appunto. Allora se tu hai dati segreti, li devi portare in televisione e devi discutere con i tuoi colleghi. Posso fermarti perché questa fotografia è quella del tuo figlio, no? Tu l'hai postata ed è successa una tragedia. Ovviamente, certo. Che cos'è successo in questa fotografia? Perché ci sono colleghi che alimentano ancora questa tendenza Novax, è stata presa da un gruppo Novax, è stata messa come immagine di dolore per il padre cattivo medico che vaccinava il bambino e abbiamo ricevuto minacce per circa 25 giorni. Questo grazie ai colleghi come il dottor Fraiese. Sono pochi. Che sono per fortuna pochi, ma che fanno parlare in televisione. Queste cose, ti posso dare un consiglio, si discutono in altra sede. Alla popolazione deve arrivare un'informazione univoca. Un medico non può dire una cosa o un altro o qualcos'altro. Non in Italia deve arrivare una popolazione non univoca. Univoca siamo in dittatura, è chiaro. La scienza si discute, che si vedono chi ha ragione e chi non ha ragione. Non univoca, non siamo in Cina, grazie. Ma la scienza si discute non di fronte a gente che non ha gli strumenti per poter valutare, si discute tra medici. E poi si dice al popolo quello che emerge da quella discussione. Fammi la cortesia. La televisione serve anche per incontrare, raccontare... Ma non per dire fandonie e per mettere il dubbio. Qui ha la libertà di assumersi la propria... Ognuno si assume la sua responsabilità di quello che dice qui, sempre.